Buongiorno a tutti, sì, sto lavorando al nuovo episodio di Game of Law e in particolare alla sigla dello stesso è un qualcosa di difficile realizzazione ma spero di fare tutto al meglio soprattutto perché adesso ho questa nuova simpaticissima telecamerina e ho registrato questo breve video, sto registrando questo breve video proprio per mostrarvi questa cosa quant'è bella e questa è un po' la seconda sorpresa dopo il sito, prima della terza sorpresa che sarà il canale mannaggia sto allarme, non so se voi lo sentite, io lo sento, mi sta martellando ma stamattina l'odio, l'odio